Questa manovra è una medicina amarissima, molto amare da digerire per l'ammalato Italia, ma è altresì vero che è l'unica medicina messa a disposizione dalla farmacia politico-parlamentare perché non ne aveva altre. La farmacia parlamentare politica era la maggioranza che sosteneva il governo, questo Parlamento, e quindi questo passava per l'appunto alla farmacia. Poi si potrà rivedere, si potrà migliorare. Io ho ben accolto le disponibilità del Ministro Passara ad andare nella direzione dell'asta pubblica per le frequenze televisive. Sono il primo firmatario della prima proposta di legge sui grandi patrimoni, quindi figuriamoci se non ho combattuto nel senso letterare per migliorarla questa manovra, ma una volta fatto, svolto questo compito, questa manovra occorreva, questa medicina bisognava mandarlo giù per salvare l'ammalato Italia, quindi questa manovra bisognava provare.